L'idea nasce da quello, ma qualcuno non gli andrà bene, perché l'idea è nata da quella. Perché quando gli ho proposto al Presidente facciamogli alla campagna abbonamenti, facciamo la campagna abbonamenti, no, più che una campagna abbonamenti, facciamo un mini abbonamento, no. Però non mi sta bene che io debba usare dei termini inglesi. E adesso se non parli inglese sei uno scemo. Lei in questa locandina ha presentato Turn for Passion, che vuol dire... Mi aiuti? Traduca il turn. Turn on, passion. Turn on è il verbo, accendere. Ma perché devo usare il turn on? Ma quanti bergamaschi, quanti, sapranno che turn on significa accendere? Il bergamasco dico, te, impia soca la stua, lei. E dice mia, turn on la stua. Come l'introduzione l'abbiamo fatta, ma che cosa sta dicendo? Se manda in onda questa grippe, il Presidente gli dice a Pulcini, ma è scemo o cos'è? Mi ha venuto in mente ancora... Lei ha presente chi è Machiavelli? No, voglio svegliere chi era esattamente il termine. Parlava della fortuna che può o meno assistere l'uomo. Noi, ancora quest'anno, abbiamo toccato un po' il fondo per quanto riguarda il numero degli abbonati e delle presenze. Perché è l'evolversi di questi anni, è la storia che lo insegna. L'Alvino Leffe nasce nel 98. Abbiamo avuto una serie di annate particolari, speciali. Ecco perché Machiavelli diceva che il 50% è merito mio, è merito nostro, è merito dell'uomo, è merito della società, ma il 50% dipende dalla fortuna. Quindi sto cercando di capire quei due o tre anni recenti che abbiamo avuto, dove purtroppo, dopo una serie di successi, siamo precipitati abbastanza in basso. Dobbiamo fare ancora tanto per poter, a mio parere, recuperare quella parte di pubblico che noi avevamo all'incirca sempre sui 2-3 mila. Questa iniziativa, volta innanzitutto l'abbassamento del 50% dei prezzi di acquisto del ticket, eccetera, eccetera, è cercare di attivare l'attenzione da chi? Dalle società dilettantistiche della zona, da parte dei genitori, dei bambini, dei nonni. E quindi forse queste iniziative potrebbero portarci ad avere quanto prima un buon aumento del numero degli spettatori presenti. Quindi il mio invito è rivolto proprio ai vecchi abbonati che non si sono più abbonati quest'anno. Non credo che non vogliano più venire a vedere l'Albino Reffe. I risultati, a noi sfavorevoli, hanno portato questo distacco da parte loro. Ova però i risultati sono tutti positivi. Turn on your passion. Preferisco tradurlo in italiano? Accendi la tua passione. Anche io fanno tranquillamente. Ha questo avюда. I risultati, al è vero che sono П